Grazie Dario per avervi portato quattro settimane ad Ascoli, sarà meno contenta la mia famiglia che mi troverà ingrassato di 5 kg più o meno, ma la città è fabolosa, le persone fabolose ogni giorno e in realtà essere qua è stato comunque anche come connessione rispetto, come diceva prima, prima Dario rispetto sia alla sua terra, alla sua storia, in questo posto dove è nato e è cresciuto e quindi anche questa, diciamo, questa esperienza di queste due tre settimane per certi versi è entrata nella messa in scena. Espandere l'universo di Dario potrebbe essere quasi uno simbolo perché l'universo di Dario è infinito. Raramente mi è capitato di lavorare con, in questo caso, un musicista, compositore, produttore che non ha solo una visione musicale estremamente riprecisa ma un universo espansivo e soprattutto narrativo. In questo senso è stata, la nostra connessione è stata molto, diciamo, istintiva, molto naturale, molto facile, proprio perché, come facevi notare prima anche tu, in ogni tour, in ogni concept, in ogni ambito di Dario non ci sono solo, diciamo, immagini che si aprono, porte che si aprono e si chiudono. C'è sempre una narrazione e c'è sempre un filo estremamente preciso. Per me, il tempo del teatro e delle arti performative, anche di grande, prevalentemente, diciamo, di grande formato, ma mi leggo sempre alla narrazione, è stato, diciamo, semplice per noi e molto difficile per la produzione accontentarci. Cosa succederà? Il piano solo è un piano solo che avrà un universo che afferesce alle arti visive di natura bi e tridimensionale, senza svelare troppo, e con macchinazioni sceniche tipiche, diciamo, di un linguaggio da lirica. Il secondo è sì un club, sì un viaggio senza spazio e senza tempo, con tecnologie chiamiamole di spettacolo classiche, ma con un'invaginazione e con, diciamo, un equilibrio nei ingredienti che stiamo cercando fino alle 6 di mattina, come abbiamo fatto qua, uscendo da retro senza facilità, troppo, questa notte, per cercare di arrivare a dare quella precisione. La musica, quando ci incontriamo con Dario per fare le revisioni quotidiane, è evidente che nel suo universo, e questa è un'altra parte che, diciamo, sia già comune, ci permette di espandere, quello che vediamo non è solo quello che sentiamo, intendo, è musica che si sente, ha una spazializzazione d'aria in testa estremamente, diciamo, chiara, che qua chiaramente da di cantare, da mettere a fuoco, perché lui allargherebbe all'infinito, che è estremamente interessante. Quello che vedremo non saranno, diciamo, delle belle immagini e delle gambe alle mole di sapone, saranno tutti dei quadri estremamente precisi, estremamente emozionanti, sono certo che in sala nel primo atto qualche lacrime scenderà, e sono altrettanto certo che nel secondo atto si farà fatica a far salire le persone.